Un mini appartamento a Dubai pagato a rate e una vendita che però non va a buon fine. La vittima, che dichiara di essere stato danneggiato, anzi le vittime, sono il sindaco di Cadoneg, Marco Schiesaro e la moglie. Una vicenda del tutto privata che il primo cittadino ha deciso di rendere pubblica perché anche la controparte ha dato la sua versione, diversa da Schiesaro. In sostanza, racconta Schiesaro, nasce un'amicizia tra lui e un agente immobiliare che gode di ottima reputazione e che propone l'acquisto alla copia di Cadoneg che paga attorno ai 200.000 euro con rate da 5.000 che l'agente doveva girare al costruttore di Dubai. Alla fine però qualcosa si inceppa, Schiesaro non riesce più ad avere la proprietà della casa e chiede almeno la restituzione della somma, mentre l'agente afferma che erano scaduti i termini del contratto preliminare e che il prezzo dell'immobile era stato così aggiornato, un aumento rifiutato nettamente dalla coppia e che si doveva e poteva, dice l'agente, cercare una soluzione pacifica che ora è impossibile. La vicenda infatti finirà certamente nelle aule di tribunale.